Bilancio partecipativo edizione 2017. Siamo alla fase conclusiva, cioè alla fase delle votazioni, alla fase delle presentazioni dei progetti, cosa che i presentatori potranno fare martedì prossimo. E quest'anno con i tempi, come i pavesi avranno potuto vedere, abbiamo dato una stretta, nel senso che vogliamo arrivare a chiudere entro l'estate per poter poi partire con la realizzazione entro l'autunno. Tante associazioni e tanti cittadini hanno presentato 30 progetti. Sì, i progetti che hanno superato la fase di fattibilità sono 30, che saranno quindi le 30 idee e i progetti che andranno al voto, dal 16 al 29 di giugno. Ogni cittadino pavese con più di 16 anni e ogni studente universitario iscritto all'Università di Pavia potrà esprimere tre preferenze e quindi da questi voti usciranno le priorità per quest'anno, che poi verranno, come diceva il Sindaco, realizzate nei prossimi mesi. 300 mila euro da suddividere attraverso i vari progetti, come l'anno scorso. Sì, alla fine abbiamo 300 mila euro e i cittadini decideranno quale progetto il Comune realizzerà. Pensiamo sia anche quest'anno una ottima idea e speriamo che anche quest'anno partecipano a questa fase finale tanti cittadini esprimendo un voto e scegliendo il progetto che più gli piace. Grazie. Grazie.